musica eccoci qua ragazzi buonasera buonasera benvenuti in questa bella live è questa grande grande serata ultima della settimana ma prima voglio sempre ricordarvi che stiamo collaborando con Eneba dove è un sito che potete trovare un sacco di bei giochi ci sono ancora due giorni di sconti per un altro 15% di cashback sarebbe per ancora altri sconti qualunque gioco vi serva oppure GTA oppure altri giochi potete venire ad acquistare su questo grande sito per di più se volete anche un codice sconto maggiore potete venire su Twitch e fate punto esclamativo Eneba e subito verrete accontentati con il mio codice sconto per FC24, PSN, PSN card, GIF card potete trovare tutto quello che di più bello ci state a trovare con prezzi veramente veramente esorbitanti quindi voglio perciò che cosa aspettate info.net scusatemi PSN card tutto Italia chiave digitali Eneba cosa aspettate acquistate con il mio codice grazie a tutti